Ciao ragazzi, VLOGMAN Studio 2 Sì, mi sono andato a fare un'altra bucina Prima taglia Che, vado a manar Mi pare, non facciamo un video Non vengono a me, non vengono a me, non vengono a me Diciamo a me, la mia di fuori Mi sanno? Non ci parla da cammi Chiedi che toglie tre un episodio Con il giume, e l'imbo a L'imbo a Con il giusto che trie un dos Che, ah, trova il balone Pro容o Ecco Certo Vuol apostolo Tutto sharmi 画ini Three Vengono Чario Se Lasurali Sì, se volete subito il video se volete subito se volete se volete ora ho bisogno perciò un video perciò se volete se volete se volete se volete se volete se volete ho bisogno se volete il viagra i holey se volete il viagra i lo i lo viagra Ciao! Izzo, izzo. Noi, subscribe, like, comment, share. Ciao!